Avviso scoperto, l'informazione senza veli con Matteo De Micheli. Siamo insieme al mio graditissimo ospite, che è Flavio Pisaniello, studente di Teologia e Filosofia. Ciao Flavio, benvenuto. Ciao Matteo, grazie mille. Grazie a te di aver accettato l'invito. Allora, Flavio ha un bellissimo canale su YouTube, si chiama Pillole di Teologia di Flavio Pisaniello. Mi hanno segnalato il suo canale, ho visto qualche video e devo dire l'ho trovato veramente molto interessante. Soprattutto per la giovanissima età, Flavio quanti anni hai? 19. 19, quindi un ragazzo giovanissimo che però fa dei video molto interessanti, professionali e anche profondi. Quindi insomma consiglio agli amici che sono appassionati di questi temi di seguire i video di Flavio perché sicuramente ne troveranno sia giovamento che anche notizie interessanti. La prima domanda che voglio farti è come mai hai deciso di dedicarti allo studio della Teologia e della Filosofia? Bene, io ho deciso di dedicarmi a questo studio perché è ispirato dalla fede maggiormente. Io sono sempre stato cattolico di fede. La mia fede è andata procredendo nel corso del tempo e a procredire è andato anche l'interesse di conoscere la mia fede, Dio, la dottrina, la sacra Bibbia. Alle volte la fede è un qualcosa che rimane nel profondo delle persone ma che le persone non approfondiscono. Invece è un qualcosa che andrebbe approfondito in modo tale da conoscere Dio, a chi ci stiamo spiritualmente approcciando e appunto tutto il contesto spirituale. Se noi non conoscessimo quel contesto io devo dire la nostra fede sarebbe piuttosto vana, almeno una conoscenza anche minima, anche basica e necessaria quando si ha fede. Ecco, giustamente, assolutamente. E quindi penso che insomma anche in base a questa tua grande passione sia nato poi anche il desiderio di aprire un canale YouTube per informare gli altri. Esattamente, io ho aperto un canale YouTube con il desiderio di informare gli altri sulla teologia, su questioni filosofiche. Maggiormente i miei iscritti, i miei seguaci su YouTube sono molto attratti da le news ecclesiali. Io così le ho chiamate, ovvero tutte quelle novità inerenti alla Chiesa che io tratto. Potrebbe uscire una novità a livello di documenti, una novità magisteriale o qualsiasi cosa che concerne l'argomento. Io appunto esprimo il mio personale parere. Il mio parere viene da una precisa deriva dottrinale, che è una deriva dottrinale più tradizionale rispetto a una deriva più progressista. Certo, allora, io inizierei, la regia ci ha anticipato facendo scorrere delle immagini che sono poi l'oggetto del tema che andiamo ad affrontare insieme a Flavio. Il primo tema, che è un tema importantissimo, si parla tanto del concilio Vaticano II. C'è chi ne parla male, c'è chi ne parla bene, ma poi alla fine la maggior parte dei fedeli non sa esattamente che cosa sia questo concilio Vaticano II. Ti va di spiegarci, insomma, quantomeno i punti più importanti? Certamente. Tu giustamente, Matteo, hai detto che riguardo al concilio ci sono queste due correnti di pensiero secondo cui c'è chi dice che sia stata una cosa giusta e chi dice che sia stata una cosa sbagliata. Bene, io appartengo ai secondi. Immaginavo. Perché il Vaticano II è stato un concilio ecumenico, un raduno di tutti i vescovi di tutte le parti del mondo che si sono riuniti a Roma. Questo concilio fu indetto nel 61 ma fu aperto e inaugurato ufficialmente nel 1962 dall'allora Papa Giovanni XXIII, Moroncalli, per poi essere concluso da Papa Paolo VI perché Giovanni XXIII non farà in tempo a continuare il concilio perché morirà praticamente un anno dopo la sua apertura nel 63. E questo concilio Vaticano II è stata la riforma della Chiesa. Secondo i progressisti è stata la nuova Pentecoste, è stata una ventata d'aria fresca. Ahimè io non sono d'accordo perché credo che sia invece una devoluzione. Io credo che sia stato un colpo del diavolo alla Chiesa perché è stata stravolta la dottrina. Sicuramente chi appartiene al periodo preconciliare, quindi al periodo pre-62, pre-Giovanni XXIII ricorderà ad esempio che la messa era unicamente in latino, ricorderà l'importanza stessa della figura del Papa, ricorderà l'intransigenza della dottrina, ricorderà anche un fattore molto importante che si è perso con il concilio, la condanna del peccato. Questo concilio ha deviato dalla dottrina per un fattore fondamentale. Prima la Chiesa era teocentrica, era teocentrica quindi si incentrava su Dio, incentrava tutto su Dio, era teocentrica sia da un punto di vista teologico, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista dottrinale, da tutti i punti di vista. Ecco che con il concilio è diventata antropocentrica, quindi ha incominciato a centralizzare il tutto sull'uomo, tant'è che uno dei teologi che hanno più influenzato il concilio e la sua deriva è stato proprio il gesuita tedesco Karl Rahner, che per un certo tempo fu amico di Ratzinger, del giovane Ratzinger, e Karl Rahner da un decano della Gregoriana fu definito come il più grande influenzatore di questo concilio. La teologia di Rahner infatti sarà proprio la teologia conciliare, ovvero l'oggetto della scienza teologica non deve essere più Dio ma l'uomo, perché senza l'uomo non arriviamo a Dio. Questa è la teologia del Vaticano II, ecco una teologia naturalmente decadente e oggi ha dato i suoi frutti, come dice il Vangelo, l'albero si vede e lo si riconosce dai frutti, infatti il concilio ha prodotto dei frutti totalmente marci. Ecco, e quali sono le riforme, i cambiamenti più importanti e da un certo punto di vista anche più dannosi che ha preso il concilio Vaticano II? Ecco appunto, oltre all'antropocentrismo, come ti dicevo prima, che è assolutamente dannoso, perché noi non possiamo mettere Dio da parte per incentrare tutto sull'uomo, questo è totalmente assurdo. Non si può nemmeno, come ha fatto il concilio, togliere il concetto di condanna del peccato, perché il peccato va condannato in quanto tale. Poi si può assolvere, si può perdonare il pentito dal peccato, lo si può assolvere, si è assolvibile, ma il peccato in quanto tale va condannato, altrimenti diventa una barzelletta. Esattamente come, scusate, interrompo, esattamente un po' come il peccato va condannato, però per essere perdonato, per esserci la misericordia, ci deve essere anche il pentimento, questa è una cosa abbastanza. Invece, insomma, ultimamente sembra un po' perso nella Chiesa di Bergoglio la Chiesa della Misericordia. Scusa, mi vai pure avanti. Ecco, appunto, poi la Chiesa di Bergoglio è l'apice, la Chiesa di Bergoglio è il punto di arrivo attualmente più concreto di questa riforma iniziata nel 62, una riforma appunto drastica, una riforma voluta da chi? Questa è importante. Generalmente si pensa in una narrativa politicamente corretta sia stata voluta dal pontefice, che allora, ripeto, era Giovanni XXIII Moroncalli, ma in realtà questa rivoluzione è stata voluta dalla massoneria. La massoneria è un'organizzazione segreta a base iniziatica che, proprio come la Chiesa conciliare e postconciliare, centralizza tutto sull'uomo piuttosto che su Dio. E ha di Dio un concetto molto astratto, secondo la massoneria Dio è un essere irraggiungibile che non interagisce affatto con noi e c'è una dottrina oltretutto gnostica che ribalta le figure di Cristo e del demonio. Quindi questo è molto dannoso per noi e, oltretutto, fra i danni del Concilio ne è susseguita la riforma della liturgia, che è stata, penso, la cosa più dannosa che la Chiesa abbia potuto prendere su di sé. Una riforma che fece Papa Paolo VI nel 69. Ecco. E poi c'è anche stato, se non mi sbaglio, correggimi, ma insomma, un po' di... mentre Dio ci ha insegnato non aveva altro Dio fuori che me, quindi la Chiesa dovrebbe essere l'unico riferimento religioso per i cristiani cattolici, ovviamente, c'è stata un'apertura verso le altre religioni. Anche questo forse ha contribuito un po' a delegittimare da un lato la religione cattolica e un po' contaminarla anche forse con le altre. Esattamente, perché con il Concilio è incominciato questo liberalismo religioso, secondo cui potenzialmente tutte le religioni sono un mezzo per arrivare a Dio. Questo non è possibile. Secondo questa pseudo-teologia conciliare, la religione induista, islamica, ebraica, nonostante rifiutino il Cristo come via verità e vita, per come lui si è annunciato, cioè sono comunque dei mezzi di salvezza. Questo è erroneo, ma lo smentisce il Vangelo, perché Cristo nel Vangelo dice nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Cristo avrebbe potuto dire, stando alla pseudo-teologia conciliare, no, sì, insomma, nessuno viene al Padre se non per mezzo di tutti, praticamente, invece, disse per mezzo di me. Si dà un'unicità, si dà un qualcosa che gli altri non possono avere. Oltretutto, lui si annuncia come via verità e vita. Allora, se Cristo è la via, è la verità unica e la più alta, è la vita, la vita eterna, allora tutti gli altri non possono essere la via, la verità e la vita. Ma la teologia conciliare che cosa ha fatto? Ha voluto smontare le parole di Cristo per andare incontro al mondo, perché poi questa è stata la filosofia. Allora, smontare la parola di Dio per andare incontro al mondo. Su questo punto ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi perché torniamo subito dopo. Ecco, siamo di nuovo in onda. Flavio, ti ho dovuto interrompere, stavi dicendo, smontare la parola di Dio per andare incontro al mondo. Esattamente. Questa è stata la filosofia del concilio. Siccome dobbiamo andare incontro a un mondo che sta andando avanti rispetto a logiche medievali così ingiustamente definite, allora noi dobbiamo adattare la parola e il volere stesso di Dio a questo mondo che avanza. Ma questa è una blasfemia. Questa è una blasfemia ed è un'errata concezione della divinità stessa, perché una divinità è definita perfetta in quanto tale. Dunque, se è perfetta, è perfetta in tutto. È perfetta nell'agire, è perfetta nel pensiero, nella parola, è in tutto. E quindi, essendo in tutto perfetta, quando la divinità rivelata, perché il Dio di Cristo è un Dio rivelato, ci ha rivelato ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura, allora non può essersi sbagliato e conseguenzialmente non può contraddirsi duemila anni dopo perché il tempo avanza. Permettimi la brutalità, a Dio non interessa che il mondo progredisca. A Dio interessa anziché che la gente, nonostante il mondo vada avanti, si attenga sempre e comunque salda alla fede che lui ci ha rivelato, non scendendo a compromessi del mondo. Il Concilio è stata una resa iniziale al mondo. Un'opera distruttiva, iniziata da Giovanni XXIII, proseguita da Paolo VI con la conclusione e continuazione del Concilio, con la riforma liturgica e poi questa stessa resa è stata portata avanti anche da tutti gli altri pontefici che gli sono succeduti a Paolo VI e a Giovanni XXIII fino a Francesco. Certo. Allora, tu hai detto delle cose che sono veramente importanti e anche di attualità e che si intrecciano molto anche con i temi che io tratto spesso nella mia trasmissione. Cioè questo antropocentrismo, cioè il fatto di portare tutto verso l'uomo e quindi allontanarlo da Dio oggi è veramente tangibile in una maniera incredibile. Tanto che tu hai detto anche Dio non interessa che l'uomo progredisca, ma interessa che l'uomo vada verso Dio. Invece qui stiamo andando, portando l'uomo lontano da Dio, mettendolo al centro di tutto e progredendo. Però il progresso, verso quale progresso stiamo andando? Un progresso che implica un controllo totale, l'identità digitale, l'intelligenza artificiale presto ci sostituirà. In alcuni tempi buddhisti già c'è l'intelligenza artificiale al posto del Monaco e fra poco c'era il giornalista, c'era un avatar al posto mio che parlerà dell'intelligenza artificiale che scriverà gli articoli al posto mio, perché questo purtroppo è quello che vogliono fare. E poi c'è il transumanesimo, quindi il fatto che l'uomo diventerà mezzo uomo e mezzo macchina, è un po' il sogno proprio di sostituirsi a Dio, cioè il fatto di poter diventare immortali, è un po' il sogno del transumanesimo, ma il danno più grave è un po' quello di arrivare al punto, loro vogliono sostituire l'anima, quindi mettere da parte l'anima e metterci la tecnologia al suo posto. Tu come la vedi questa cosa? Chiaramente è una visione del mondo drammatica, una visione futuristica più che altro drammatica che è già iniziata, è iniziata, ma perché noi dobbiamo sempre domandarci chi c'è dietro questa azione drastica e quali siano le sue intenzioni e quale sia la fede di questa gente. Allora io so che verrò tacciato, come spesso si fa nella società odierna, come un complottista, ma io ritengo che la massoneria... Non mi preoccupare perché qua giochi in casa, non so quante volte mi hanno dato il complottista, ormai non le conto neanche più, quindi vai tranquillo. Bene, allora io ritengo personalmente che ci sia la massoneria dietro questo piano anticristico di ribaltamento più totale dell'ordine naturale, dell'ordine prestabilito da Dio... Su questo sono pienamente d'accordo. Esatto. E naturalmente la massoneria, non avendo la fede della Chiesa, non avendo la fede di un Dio, come è il Dio di Cristo, ma avendo una fede totalmente opposta, ecco che ciò risulta un problema, perché noi è qui che dobbiamo domandarci, ma se allora chi è dietro e chi manovra i burattini in questo mondo che ormai è diventato un grande palcoscenico ha una fede verso il diavolo piuttosto che verso Dio, allora tutte queste riforme, tutte queste novità terribili che stanno apportando alla società sono davvero delle cose positive per l'uomo, per la sua anima, per il suo figlio? Poi sono cose positive anche per Dio, se ancora interessa a qualcuno qualcosa di ciò che voglia Dio? Io decisamente no, ma poi proprio da questo si vede proprio la volontà di eliminare Dio, perché Dio è un ostacolo, la fede è un ostacolo a tutto questo programma che hanno in mente, c'è Arari che è un professore israeliano che è un braccio destro di Schwab che spesso interviene a World Economic Forum, che lui dice che chiaramente tra le varie bagianate che dice, dice che Gesù Cristo è una barzelletta, non è mai esistito, bisogna smettere di parlare di Gesù perché finché c'è Gesù, finché c'è Dio, è quello un ostacolo per il loro piano, perché ovviamente il cattolico preferisce salvarsi l'anima piuttosto che vendere al demonio, piuttosto che alla tecnologia, sicuramente. Allora, adesso passiamo al secondo argomento, che è un fumo che deriva sempre dal Concilio Vaticano II, che è un cambiamento che diciamo che chi è nato dopo che è stato fatto manco se ne rende conto, magari pensa che la Messa è sempre stata quella che diciamo oggi, invece c'è stata una riforma importante. Esattamente, sì, questa riforma importante, ma ahimè totalmente diabolica, è stata proprio la riforma della Messa che fu attuata da Papa Paolo VI dopo il Concilio. Allora, diciamo che la nuova Messa di Paolo VI è stata studiata e formata a tavolino da dei personaggi dottrinalmente molto opinabili per un cattolico. Paolo VI quando istituì la commissione liturgica, che cosa fece? La fece presiedere da Monsignor Annibale Bugnini, sempre stato soggetto di accusa di affiliazione alle logge massoniche, non a caso, tant'è che Monsignor Bugnini viene accusato di affiliazione alle logge massoniche, anche in un libro recentemente uscito di Don Charles Muir sulla massoneria vaticana. Ed è quasi certa questa sua appartenenza alle logge. Pensare che un individuo della religione dell'anticristo, per noi cattolici, che è la massoneria, ha contribuito alla formazione della nuova liturgia che abbiamo da 60 anni a questa parte, è preoccupante, dovrebbe mettere un allarme nello spirito di tutte le persone. Ma non solo Monsignor Bugnini, il massone, contribuì a formare la nuova Messa, ma anche sei teologi calvinisti. Il calvinismo è una corrente del protestantesimo, che non è il cattolicesimo, e vorrei ricordare l'extra ecclesiam nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Quindi ortodossi, protestanti, ebrei e così via, sono fuori della salvezza, sono fuori della possibilità di salvarsi perché non sono nell'unica Chiesa istituita dal Signore su Pietro, che è l'unica Chiesa che può dare la grazia all'uomo. Certo, tra l'altro io volevo ricordare, abbiamo parlato della massoneria, ma fortunatamente ancora questa cosa la Chiesa non l'ha cancellata, ovvero che un cattolico non può appartenere alla massoneria, sono inconciliabili le due cose, è stato detto, ribadito e riscritto, anche se purtroppo ci sono più di un indizio che dicono che la massoneria è penetrata molto dentro la Chiesa. Ora magari la mafia di San Gallo non può essere paragonata alla massoneria, ma di sicuro le azioni che ha fatto sono paragonabili a quelle della massoneria, perché ha agito nel segreto, ha tramato nell'ombra per raggiungere uno scopo che poi alla fine era quello proprio delle lezioni di Bergoglio. Quindi insomma ci sono dei meccanismi che sono anche abbastanza simili. Esattamente, e se mi permetti un'ultima parentesi sulla riforma della messa, ci si può domandare come mai questa messa nuova, che abbiamo da 60 anni a questa parte in lingua volgare, è tanto diabolica rispetto alla messa lì? Tra l'altro, corregimi se sbaglio, i protestanti sono stati i primi a utilizzare una lingua diversa dal latino per la messa, e poi i cattolici l'hanno un po' copiato, come per dire magari ci fregano i fedeli, adesso l'ho detta un po' in maniera semplice. Infatti alla riforma della messa, come dicevo proprio poco fa, hanno partecipato sei teologi protestanti, e questo fa capire come il concilio Vaticano II sia stata una protestantizzazione della Chiesa piuttosto che una cattolicizzazione. Allora, la nuova messa di Paolo VI, questo anch'essa, come tutta la dottrina, la teologia, la filosofia conciliare e postconciliare, è antropocentrico. Il prete, prima della riforma liturgica, non solo utilizzava la lingua sacra della cristianità, che è il latino, è la lingua universale della Chiesa, ma prima della riforma il sacerdote dava le spalle al popolo celebrando faccia a faccia con Dio, che in termine liturgico è detto Coram Deo e non Coram Populo. La differenza è netta qui, qui è netta la differenza. Nettissima. Per me, ma come penso per qualsiasi persona, dovrebbe essere assurdo, dovrebbe risultare assurdo, il fatto che un sacerdote che celebra e agisce in persona a Cristi, nella persona di Cristo, dia le spalle al Cristo durante la Santa Messa, sempre per andare incontro al mondo. Ecco, in questa precisa riforma della Messa, c'è tutta la teologia conciliare. Dare le spalle a Dio per voltarci verso il mondo. Questo è assurdo. Oltretutto, il cardinale Ottaviani scrisse insieme ad altri prelati un breve esame critico sulla nuova Messa di Paolo VI, dicendo che era praticamente diventata la cena di Lutero. Non solo c'è questa celebrazione Coram Populo, piuttosto che Coram Deo, non solo si è abbandonata la lingua sacrale del cristianesimo e della cattolicità più in particolare che è il latino per cedere alle lingue volgari, ma ad esempio si nominano molto di meno i Santi, la Beata Vergine Maria, anche questo fattore molto protestante, perché in effetti i protestanti non danno culto a Maria e ai Santi. Assolutamente. Allora, su questa cosa ti chiedo scusa, dobbiamo fermarci ancora qualche istante per la pubblicità, ma restate con noi perché come vedete questa puntata è veramente molto interessante. Ecco, siamo di nuovo in onda, Flavio stavi facendo notare un aspetto molto importante di come comunque anche all'interno del Concilio Vaticano II ci fossero dei protestanti e poi facevi notare, cosa che è assolutamente vera, che per il protestante, sì, Maria è la mamma di Gesù, punto e basta, non è una figura divina, non hanno questa adorazione che hanno i cristiani nei confronti della figura della Santa Vergine Maria. Esattamente. In realtà, ecco, devo correggere un termine perché ho da evitare attacchi appunto dai protestanti. Correggio, correggio. Noi non abbiamo un'adorazione, poiché l'adorazione teologicamente per noi è chiamata latria, cioè la latria, l'adorazione è soltanto rivolta alla Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, mentre invece a Maria, verso Maria, noi utilizziamo l'iperdulia, così, questo è il termine specifico, che è una venerazione, una venerazione molto grande perché Maria è definita la regina dei Santi, la madre di Dio, la genitrice di Dio, quindi per lei c'è una venerazione massima. Però ecco, ho voluto giusto correggere questo termine o devi dare attacchi dagli eretici scismatici. No, no, hai fatto bene. Io ho usato questo termine sia perché sono un po' ignorante ma anche perché devo dire che alle volte da parte di certi cattolici c'è anche un po' un'esagerazione nel, appunto, arrivano quasi ad adorare la figura di Maria e qui si inseriscono purtroppo anche tanti truffatori con apparizioni che non sono vere ma sono inventate proprio per speculare sulla fede delle persone, sulla credulità delle persone. Hai fatto benissimo a correggermi. Esattamente. Un altro, un ultimo magari ecco punto che volevo toccare riguardo alla riforma della Santa Messa è l'assenza della genuflessione, dell'inginocchiarsi. La genuflessione è un atto di adorazione e prostrazione dinanzi a Dio. Quell'atto che nella Messa Riformata vediamo soltanto in due occasioni la comunione. Quando il sacerdote sta consagrando l'Eucaristia, il pane e il vino e dopo la distribuzione dell'Eucaristia. Mentre invece nella Messa Antica detta Vetus Sordo piuttosto di questa nuova che è Novus Sordo ci si genufletteva praticamente sempre. Era una cosa molto frequente la genuflessione durante la Santa Messa Antica perché è una messa incentrata su Dio appunto non è una messa incentrata sull'uomo. Poi posso interrompere, c'è una differenza grande in cui mi ha fatto bene a studiare questa cosa qui perché per esempio nelle adorazioni a me che ho partecipato ci si inginocchia, insomma chi vuole si inginocchia e c'è una preghiera che comunque è molto più forte molto più intima, molto più raccolta rispetto magari a stare in chiesa in piedi anche perché poi tante volte purtroppo a Messa ci vanno persone che vogliono andare a ascoltare la Messa e altre che magari hanno anche un po' di altre cose nella testa quindi se stanno in piedi poi si muovono fanno magari chiacchierano, danno anche fastidio. Sì, esattamente. E insomma noi con questo credo che abbiamo visto poi ecco attenzione non ho toccato tutti i punti della riforma se no dovremmo dedicarci due puntate forse e dovremmo commentare appunto il breve esame critico del Cardinale Ottaviani però io credo che già da quello che abbiamo analizzato fino adesso la questione è veramente preoccupante. Assolutamente, poi soprattutto spiega bene come siamo arrivati ad oggi in cui passaggi cosa è successo per quale motivo oggi c'è Bergoglio perché non è che insomma come si suol dire il demonio non si manifesta all'improvviso ma trama nel tempo e piano piano arriva ai suoi obiettivi. Non voglio dire che Bergoglio sia il demonio ma sicuramente insomma è una persona che ha detto tante eresie che ha portato i fedeli lontano dalla parola di Dio che sta traghettando la chiesa in una direzione che io non concepisco proprio e a proposito di questo tra l'altro le eresie di Bergoglio io ci ho dedicato diversi video il primo video nel quale mi sono cominciato ad occupare delle questioni di chiesa ho proprio parlato ho fatto questo elenco delle eresie di Bergoglio però insomma l'ho fatto qualche anno fa quindi nel frattempo ne avete tante altre. Tu come vivi queste eresie? Se vuoi farne degli esempi secondo te quelle che ti hanno colpito di più? Bene, allora io all'inizio ne soffrivo molto perché ero un po' più ignorante in materia teologica ritenevo erroneamente ricollegandoci anche al discorso del concilio che Bergoglio fosse un marziano arrivato a Roma il 13 marzo 2013 un essere totalmente diverso rispetto a tutto quello che abbiamo avuto precedentemente se io ho voluto parlare approfondire gli errori conciliari è stato proprio per sottolineare quello che io poi ho scoperto e che mi ha fatto mettere tra virgolette l'anima in pace cioè che Bergoglio non è l'inizio di questo errore di queste eresie Bergoglio è attualmente perché l'attuale pontefice è il punto di arrivo è il risultato diciamo ma è in piena continuità Bergoglio con chiunque sia venuto prima di lui perché chi è venuto prima di lui magari è stato un po' più astuto più intellettuale e non ha manifestato i suoi errori modernisti come invece fa Bergoglio che è un personaggio assolutamente non intellettuale e quindi in questo sono stati molto più astuti i suoi predecessori però fondamentalmente sono tutti in piena continuità addirittura Papa Ratzinger sfortunatamente vantava un'ermeneutica un'interpretazione quindi della continuità tra la tradizione preconciliare e il momento della Chiesa del concilio tra tradizione e concilio ma questo questa è una follia tant'è che non pochi teologi e prelati gli scrissero per smentire questa sua tesi a cui lui infatti non rispondeva non rispondeva perché probabilmente non ci credeva nemmeno lui in fondo che ci fosse realmente una continuità tra la tradizione e il concilio il concilio è stato la totale rottura con la tradizione non si può vantare modernità eh no è continuità ma noi non ci sorprendiamo però quando scopriamo che Iosef Ratzinger da giovane un grandissimo sostenitore del concilio ecumenico Vaticano II tant'è che girano non poche fotografie di Ratzinger che era seduto accanto a Karl Rahner il gesuita di cui parlavamo prima un eretico primus inter pares nel concilio e addirittura entrambi si presentarono al concilio in giacca e cravatta ed erano entrambi i sacerdoti già la secolarizzazione della figura stessa del prete la esprimevano in quel momento Iosef Ratzinger e Karl Rahner oltretutto Ratzinger apparteneva alla filosofia hegeliana Hegel era un protestante era progressista poi anche sulla filosofia di Hegel toccherebbe tenere un simposio a parte ma comprendendo la filosofia di Hegel ahimè comprendiamo tutta l'impostazione del teologo Ratzinger certo allora il papa proprio prima del concilio se non mi sbaglio correggimi disse che insomma il demonio era entrato nella chiesa però insomma sembrerebbe che con il concilio Vaticano II abbiano proprio spalancato le porte a questo puoi crescere al demonio insomma esattamente è stato fu Paolo VI a dire il fumo di Satana è entrato in Vaticano ecco però io vorrei dire una cosa a papa Paolo VI vorrei dire tu sei stato il primo a contribuire o meglio il secondo a contribuire a dare il tuo contributo affinché questo fumo di Satana entrasse in Vaticano e non uscisse più perché le riforme peggiori le ha portate tutte Paolo VI tra cui la riforma liturgica d'altronde Paolo VI sospese a Divinis nel 1976 Monsignor Marselle Fevre che è stato un grandissimo oppositore del concilio Vaticano II che è stato la colonna dei tradizionalisti cattolici che si opponevano alla protestantizzazione e modernizzazione della Chiesa avvenuta con il Vaticano II poi successivamente Monsignor Marselle Fevre nell'88 ordinò quattro vescovi senza il permesso dell'allora pontefice Giovanni Paolo II che anche lui modernista lo scomunicò lo scomunicò e dichiarò illegittime le ordinazioni episcopali di Monsignor Lefevre e però Benedetto XVI nel 2009 fa un gesto tradizionale e rimuove toglie la scomunica data da Giovanni Paolo II a i Lefebriani a tutti quei seguaci di Monsignor Marselle Fevre e quindi la fraternità sacerdotale di San Pio X cui io appartengo e invece mentre il Concilio Vaticano II ha cambiato la messa diciamo così con il nuovo sordo però il vetus sordo era comunque consentito insomma chi voleva poteva continuare a dire tollerato diciamo così però invece adesso con Bergoglio è stato proprio vietato allora diciamo anche qui c'è una una scaletta di biedi nei confronti della messa a vetus sordo Paolo VI fu totalmente chiaro quando riformò la messa nel vietare assolutamente la celebrazione della messa di tradizione apostolica o messa di San Pio V questa è la messa antica a vetus sordo c'era un astio incredibile da parte di Paolo VI nei confronti di quella messa poi abbiamo Giovanni Paolo I che dura solo 33 giorni però quando era patriarca di Venezia perseguitava chiunque volesse celebrare la messa antica poi abbiamo avuto Giovanni Paolo II che disse sì io vi concedo la celebrazione della messa di tradizione apostolica a patto che voi accettiate il concilio ecco è detto a un tradizionalista è una presa in giro è una presa in giro tant'è che Monsignor Lefebvre si rifiutò ulteriormente ma come tutti i tradizionalisti poi arriva Benedetto XVI nel 2007 con il suo motu proprio Summorum Pontificum con cui lui riabilita la celebrazione della messa di tradizione apostolica della messa antica in latino laddove i federi la richiedessero ai loro sacerdoti e lui imponeva ai sacerdoti di celebrarla appunto laddove i federi gliela chiedessero però anche qui c'è stato un grandissimo errore teologico da parte di Benedetto XVI ovvero il dire che la messa vetus sordo la messa antica la messa nuova sono due forme dello stesso rito due facce della stessa medaglia questo è un errore teologico grandissimo già da quel poco che abbiamo visto prima noi comprendiamo che sono totalmente differenti anche se fosse perché se fossero state le due facce della stessa medaglia non si capisce perché dovere vietare l'una piuttosto che dell'altra allora ci dobbiamo ancora fermare qualche istante per la pubblicità restate con noi torniamo fra pochissimo ecco siamo di nuovo in onda allora Flavio vogliamo andare avanti sul discorso di Bergoglio allora come dicevo c'è stata no una cosa un soffocamento graduale della messa di tradizione apostolica della messa antica in latino dulcis in fundo arriva Francesco Papa Francesco che con la tradizione scustodes il suo modu proprio dal nome anche una presa in giro nei confronti della tradizione pubblicato nel 2021 affossa totalmente ma implicitamente da buon furbacchione ambiguo gesuita qual è la messa antica perché lui con la tradizione scustodes cosa dice voi fedeli volete richiedere al vostro parroco ai vostri sacerdoti di celebrare la messa preconciliare bene qui i parroci dovranno portare la richiesta al vescovo il vescovo a sua volta dovrà portare la richiesta alla santa sede e la santa sede indovinate un po' non approverà mai ecco quindi troviamo il soffocamento più totale noi vediamo che a Bergoglio piacciono delle messe che sono permettetemi il termine un po' magari così volgare e pagliacciate noi in questi ultimi anni abbiamo visto una marea di messe novus sordo che danno proprio l'idea di che cosa sia il novus sordo miss abbiamo visto sacerdoti celebrare nell'acqua del mare sul materassino a petto nudo una cosa totalmente assurda la pace quant'altro ma guardiamo anche la giornata della gioventù col prete di G Don Peixoto totalmente assurdo poi abbiamo avuto Don Corazzina che si è messo a celebrare nel bosco in tuta da ciclista con la stola LGBT che per noi vorrei ricordare un abominio io capisco che queste sono parole forti ma questa è la volontà di Dio ed io sicuramente non mancherò ad essa per venire incontro poi c'è da aggiungere una cosa che non dice mai nessuno ma io la voglio dire forte e chiaro cioè la bandiera della pace quella che viene chiamata la bandiera della pace che poi portano al gay pride e alle manifestazioni LGBT è un simbolo satanista ecco questo va detto chiaramente esatto e appunto abbiamo visto spot pubblicitari di sacerdoti che sono realmente tali che nelle loro chiese benedicono con lo spazzolone del cesso abbiamo visto battesimi durante il covid con la pistolina d'acqua mamma mia quella che utilizzano i bambini durante l'estate per spruzzarsi l'acqua ecco che noi incredibilmente l'abbiamo ritrovata nelle mani dei nostri preti per battezzare i nostri figli questa veramente è una cosa abominevoli ma voi immaginate un sacerdote che si mette lì con la pistolina io ti battezzo è una cosa totalmente che resenta il ridicolo ma questa è la messa nobu sordo questo è il cedere al mondo adesso c'è chi potrebbe dire ah ma quelle erano delle restrizioni inerenti al covid queste sono solo scuse ah vabbè non entriamo nel discorso covid perché guarda entriamo in un discorso che è veramente complicato non abbiamo il tempo perché la chiesa durante il covid ha completamente tradito la parola di Dio perché a me non mi risulta che Dio abbia mai detto ama il prossimo tuo se hai il green pass o si è fatto tre dosi piuttosto che due ma ama il prossimo tuo come se stesso poi i preti hanno Dio dice andate a trovare gli ammalati e invece i sacerdoti hanno evitato di farlo di dare perfino l'estremozione la benedizione ai sofferenti questa è una cosa che urla vendetta urla vendetta mi spiace dirlo ma agli occhi di Dio per i fedeli questa è una cosa brutta brutta quindi andiamo avanti non entriamo nel discorso covid e andiamo avanti perché praticamente dopo la pacciamama adesso c'è stata la bambola cacchina non so se si chiama così o picacina che gli hanno portato con il coltello insanguinato simboli comunque pagani se non che chiaramente del demonio poi il sinodo è anche lì e poi l'ultima uscita che è addirittura la benedizione delle coppie gay e il battesimo i primi madrini e padrini possono essere sì diciamo ormai molte settimane fa ci è pervenuto questo documento del dicastero della dottrina per la fede che ad oggi è capitanato dal cardinale Victor Manuel Fernandez amico stretto di Bergoglio che scrisse un libro negli anni 90 erotico insomma l'esperto di baci esattamente noi capiamo già da questo il soggetto e in questo documento il cardinale Fernandez che cosa fa? dice da oggi i trans possono essere battezzati trans e omosessuali possono fare da padrini e madrine ai matrimoni madrina asterisco bisognerebbe dire sì infatti o addirittura i loro figli i figli di figli tra molte virgolette di questi esseri possono essere battezzati ecco questa è una piena continuazione con quello che disse Bergoglio sui gay la prima volta chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio questa frase è stata giustificata dagli amanti di Papa Francesco ma al contempo un po' conservatori dicendo no ma il Papa non ha aperto assolutamente a nulla bene allora io adesso vi pongo una domanda se il Papa con quella frase non ha aperto a nulla di tutto ciò sugli omosessuali come mai oggi siamo arrivati al Cardinale Fernandez che ammette il battesimo per i trans ammette trans e omosessuali per fare da madrini e padrine oppure al battesimo stesso per i figli di questi gay allora vuol dire che quella frase è stata un'apertura c'è poco da giustificare e da salvare le azioni di Francesco perché sono ingiustificabili e insalvabili hanno toccato la dottrina e l'hanno grandemente danneggiata più di quanto già lo fosse ormai da 60 anni a questa parte dal concilio dalla morte di Pio XII ultimo vero Papa della tradizione ecco io perdona mi tengo a sottolineare questo ultimo vero Papa della tradizione perché io già da quando ho detto queste cose nei miei ultimi video su YouTube mi hanno tacciato di sedevacantismo spiego ai nostri ascoltatori da casa che magari non sanno che cosa sia il sedevacantismo il sedevacantismo è ritenere tutti i papi da dopo Pio XII quindi da Giovanni XXIII fino a Francesco illegittimi da un punto di vista canonico ecco io non sono di questa posizione io non sono sedevacantista sono però un tradizionalista a onor del vero della tradizione che porto avanti con fierezza io devo dire che l'ultimo Papa che difese la tradizione con la T maiuscola è stato Pio XII dal 1958 morte di Pio XII tutto è concluso e siamo arrivati oggi a Bergoglio che fa queste cose assurde tu prima poi hai giustamente sottolineato gli episodi di Pachamama che è un idolo indigeno è un idolo che è stato intronizzato in Vaticano in occasione del sinodo proprio amazzonico Vaticano e è stato portato in processione questo idolo pagano gli idoli pagani vorrei ricordare in questa sede che il Signore nostro li bandisce dall'Antico sino al Nuovo Testamento quindi intronizzarli e portarli in processione è benedetto anche proprio Francesco esatto pregarvi davanti in Vaticano è un disertare la legge di Dio poi siamo arrivati a questo nuovo idolo dell'Opicacina perché non esiste non esiste anno senza idolo nel pontificato Bergogliano ma Bergoglio non è il primo che per questi incontri ecumenici ed interreligiosi introduce delle statue pagane degli idoli pagani il primo fu Giovanni Paolo II quando ad Assisi pose sull'altare di Santa Chiara la statua di un Buddha capisco che questo farà male ai conservatori ma io faccio una domanda ai conservatori quando lo fa Bergoglio siete pronti con il dito puntato se lo fa Giovanni Paolo II santo subito che santo non era affatto ma poi è giusto dire le cose come stanno insomma esattamente abbiamo parlato di fatti quindi è giusto esatto è giusto d'altronde Giovanni Paolo II permettemi quest'ultima parentesi si andò in Benin dagli stregoni voodoo e gli disse che dovevano mantenere la magia nera in quanto una loro tradizione questo è totalmente folle questo è assurdo anzi ma come uno degli esorcisti più vicini a Giovanni Paolo II padre Gabriele Amort non faceva altro che ammonire non faceva altro che vietare le frequentazioni di questi atti occulti e spiritici però arriva poi lo stesso Papa che benedice quegli atti occulti e spiritici questo capite che è folle Giovanni Paolo II baciò il Corano Giovanni Paolo II disse sia a Casablanca nell'86 in un incontro con i giovani musulmani per poi ribadirlo in un'udienza generale nel 99 che musulmani e cristiani adorano lo stesso Dio e allora quando poi vediamo il patto di Abu Dhabi di Bergoglio con il capo con il grande imam della religione islamica non dobbiamo sorprenderci a in totale continuità con voi Tewa ecco queste cose sono molto importanti quelle che tu hai detto perché quantomeno abbiamo dato insomma anche un percorso perché molti dicono Bergoglio è il male sì va bene ma prima per arrivare a questo male insomma c'è stato un percorso che oggi abbiamo bene bene illustrato abbiamo ancora poco tempo due minuti e volevamo parlare del prossimo conclave però io volevo chiederti prima penso che non avremo tempo poi magari se vuoi tornare in trasmissione ampliamo anche il discorso va benissimo ha cacciato Stricland lo ha fatto Bergoglio in maniera illegittima non poteva farlo esattamente voi dovete sapere che Francesco ormai una settimana fa o poco più ha sollevato per usare un termine tenero puramente bergogliano dai suoi incarichi Monsignor Joseph Edward Stricland vescovo di Tyler una diocesi texana che si trova in Texas per quale motivo voi vi domanderete voi ascoltatori da casa forse questo Monsignor Stricland sarà stato un abusatore di bambini un predatore sessuale o aveva doppia vita e così via no l'unica colpa che aveva era quella di conservare i valori tradizionali della fede ecco questo è un totale abuso di potere da parte di Bergoglio che noi dobbiamo denunciare a gran voce perché io vorrei ricordare che Francesco sono anni che si comporta in modo gnorri passami il termine nei confronti del gesuita Rupnik che è un abusatore seriale di suore dichiarato oppure quando per anni fece lo gnorri sul caso McCurrick il cardinale di Washington e poi di New York era anche lui un predatore seriale di bambini allora lì facciamo silenzio perché perché quei prelati sono modernisti quindi fanno comodo a me su quelli non diciamo niente siccome Stricland è conservatore anche se non ha abusi sulle spalle né nient'altro io lo sollevo dagli incarichi questo è Papa Francesco questo è il modo di operare siamo finito il tempo il modo di operare di Papa Francesco Stricland è un esempio ma ci sono tantissimi uomini di chiesa che hanno subito e subiscono persecuzioni di ogni tipo perché magari sono fedeli alla tradizione e non accettano questo modernismo e niente poi sarebbe da parlare del prossimo conclave ma lo faremo magari in una prossima puntata perché l'ho trovata molto interessante per questa sera il tempo a nostra disposizione è finito quindi Flavio Pisagnelli ti ringrazio ti auguro una buona senata e un buon lavoro grazie mille Matteo anche a te grazie per l'invito e ricordo agli amici chi vuole seguire Flavio Pisagnello lo può fare sul canale Youtube Pillole di Teologia di Flavio Pisagnello io vi saluto vi auguro una buona serata e come sempre vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 23 Avviso scoperto l'informazione senza belli con Matteo De Micheli